Musica Possiamo guardare al domani con maggior tranquillità dopo aver affrontato moltissime violente tempeste. Le navi sono finalmente all'ingresso di un porto sicuro. È quanto scrive ai dipendenti il presidente delle quattro Good Bank, Roberto Nicastro, commentando l'accordo per l'accessione a Ubi di nuova banca Etruria, nuova casa di risparmio di Chieti e nuova banca delle Marche. Secondo Nicastro, Ubi saprà continuare e intensificare il percorso di risanamento che abbiamo portato avanti, dice Nicastro, e saprà rispondere al meglio alle aspettative che i nostri territori ripongono nelle nostre banche. Ora si comincia a parlare di occupazione e infatti noi ci aspettiamo una convocazione veloce da parte del presidente Nicastro perché dobbiamo capire meglio quei 130 milioni messi da parte per oneri di ristrutturazione quanti riguardano il personale e poi il personale delle tre banche. Come verrà trattato? Noi di Banca Etruria ci imporremo per far pesare sul tavolo della trattativa i grandi sacrifici che noi dipendenti stiamo già facendo. Ecco, l'altro punto, l'altra questione è sicuramente il centro direzionale, il mantenimento del centro direzionale. Ad Arezzo ci sono dei timori anche per questo aspetto? Certo, è giusto essere realisti. Ci sono dei timori, però sappiamo anche bene come Ubi, grazie a Banca Etruria, entra in Toscana. Quindi secondo noi il centro direzionale può essere un centro utile a questa nuova banca. Arezzo non può permettersi di perdere una banca che è qui da più di 130 anni, che ha dato tantissimo al territorio in un meccanismo virtuoso. Bene hanno fatto le autorità locali, i rappresentanti degli enti locali recentemente, a parlare di questo aspetto e a parlare anche dell'aspetto occupazionale. Tutto il territorio ha bisogno di Banca Etruria, seppur in una nuova veste, ma dentro un grande gruppo bancario.